Anci ringrazia di cuore il Comune di Cisternino per la volontà, per la capabilità di aver ancora una volta proposto questa conferenza internazionale sulla valorizzazione dei borghi più belli d'Italia sui temi del turismo, sui temi dell'enogastronomia, sui temi della qualità, della conoscenza, del sapere, della cultura, della storia dei più belli borghi d'Italia. Anci non è solo impegnata nel promuovere quelli che sono le grandi città, ma Anci è fortemente impegnata e per questo ringraziamo di cuore il Presidente De Caro per aver voluto in modo particolare sostenere, aiutare quei tantissimi piccoli medi comuni italiani che fanno dei propri borghi, della propria storia, della propria ricettività, della propria cultura, della propria bellezza una ragione non solo nel sapersi proporre ai territori nazionali, ma ai territori mondiali. L'esempio di Cisternino che vuole organizzare questo importante appuntamento internazionale, dove poi alla fine vengono proposti i temi, le soluzioni attraverso quelli che oggi sono i più importanti mezzi di comunicazione, un sito che in qualche modo consenta a tutti gli italiani non solo di poter conoscere la qualità delle buone pratiche e delle belle esperienze che escono, è un esempio di come Anci si impegna sulla sua totalità di comuni, su quelle che sono le sue capacità anche di intercettare quelle meravigliose cose che in Italia, da quelli che sono i monumenti, da quelli che sono le gastronomie, da quelle che sono le bellezze naturali, oggi possiamo in qualche modo valorizzare e soprattutto far conoscere il tutto territorio. Per questa ragione come Anci abbiamo sostenuto fortemente questo progetto e per questa ragione siamo convinti che ancora una volta l'esempio di Cisternino, di questa bellissima conferenza, sarà un successo non solo nazionale ma mondiale e dove ancora una volta vedrà l'Anci come prima linea in quello che è la valorizzazione dei propri comuni e dei propri territori.